05 novembre 2017 Anita Nurzia come in tutte le case che si rispettino, c'è sempre tempo per dedicarsi a qualche pettegolezzo. Dopo la generosa offerta di Cristiano Malgioglio, che in veste di capitano della settimana ha regalato la cena nella suite a Cecilia e Ignazio, il paroliere si ritrova a parlarne con Daniele Bossari, Raffaello Tonon e Lorenzo Flaerti. Ho sentito le loro urla tutta la notte ha commentato Cristiano a tavola con gli altri inquilini l'unico che non si sentiva era Ignazio, ha perso la sua verve. E l'amore replica un divertito Bossari ma, poco dopo, è lo stesso Malgioglio arriva a dire che ciò che è nato tra i due ragazzi non si può definire tale questo non è amore. E un flirt si devono ancora conoscere mentre Flaerti e Bossari non ribattono su tale opinione. Di diverso avviso è Raffaello Toton, che afferma secondo me ci sono buoni presupposti perché vadano avanti. Parole a cui Malgioglio replica con non poca perplessità. Iscriviti alla nostra newsletter lascia un commento.